Eliminare la burocrazia togliendo le leggi inutili Noi oggi non lanciamo un portale o una proposta ma una nuova idea di Stato in cui cittadini e imprese devono essere lasciati in pace per poter creare valore e portare avanti iniziative ha continuato il candidato premier dell'M5S. Per fare questo abbiamo bisogno di sottrarre leggi e obblighi che hanno prodotto una ragnatele in cui gli onesti restano imbrigliati e i disonesti si muovono con rapidità impressionante, oggi, ha illustrato Di Maio, ci sono 187.000 attiaventi valore di legge, a questi si sommano leggi regionali, decreti attuativi, circolari, ministeriali e norme europee. Io qui a proseguito rispondendo alle domande del direttore Paolo Licuori mi assumo la responsabilità di dire che è semplificando che si aumenta il gettito fiscale dello Stato ed è semplificando che ridurremo la pressione fiscale, togliendo oneri burocratici. Di Maio ha poi promesso che il Movimento 5 Stelle non sarà quello che farà leggi sulla sburocratizzazione e che per il controllo sulle imprese basterebbe fare una cosa, incrociare le banche dati tra gli enti, ad esempio agenzia delle entrate, camere di commercio, o motorizzazione. Via spesometro e studi di settore per il Movimento 5 Stelle, lo spesometro non è un modello di lotta all'evasione, non lo sono neanche lo split payment, il redditometro nell'agenzia delle entrate e riscossione. Questi per noi arriva dito non sono modelli di lotta, insieme agli studi di settore. Il leader pentastellato, poi, è convinto che i problemi di questo Paese si risolvono con la fiscalità generale, gli investimenti e la legge di bilancio che si fa ogni anno.